Good morning! Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, come state? 7.07 martedì 16 aprile, ebbene sì, allora come va? Tutto bene? Come sta andando questa settimana? Iniziata bene? Ieri? Oggi ancora il tempo tiene, ma attenzione perché non abituiamoci troppo, poi ve lo spiego più avanti, se sì più avanti vi dico tutto quanto. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5, il nostro numero di Whatsapp, pronto a ricevere ogni vostro messaggio, audio, foto, video, quello che volete, la condivisione aperta, che sia condivisione tra tutti noi. Madonna come sono ecumenico questa mattina. Comunque, allora, dicevo appunto, oggi è martedì 16 aprile, primo vero giorno di salone del mobile in realtà, perché apro ufficialmente oggi, ma insomma, la città è già bella che è piena di turisti, di gente che va in giro, di feste, serali e di happening, meeting, installazioni, installazioni, installazioni. Quante l'avete vista in installazioni? Avete visto in statale cosa c'è? La qualunque. Non ci capita niente? È normale, nessuno ci capisce nulla, nemmeno chi le fa quelle robe lì, sono strassicuro di questo. Prima o poi mi devo mettere in testa di fare un giro al fuori salone, domandando a chi vede quelle robe, bene, me la posso spiegare un secondo, ma cosa stacca vedendo? Perché fa la foto qua? Ecco, è che tutto così, non si capisce niente, ma ci piace tanto. Eh, questa qui, è la bellezza di questa città, la bellezza è anche avere un programma come il nostro. Good morning, Milano! Con la pesce di Martino, sesso e architettura, l'architettura di cui è piena questa città in questa settimana della Design Week, il salone del mobile, il fuori salone. Poi ne parliamo ancora, eh. Prima, però, volevo ricordarvi come, e lo sappiamo in tanti, questo è anche il periodo dell'allergia. Lo sentite anche dalla mia voce, eh sì, faccio veramente fatica a respirare la mattina, perché comunque, appena svegli, i pollini attaccano e conquistano il nostro organismo. Comunque, vabbè, perché è questo? Perché mi faccio un po', mi collego a una notizia che leggiamo da Milano Today. In realtà questa notizia è una bella notizia, nel senso che è molto, è pensata anche come cosa, adesso questa iniziativa, poi ve la vado a leggere. Il problema è che si, cioè, lascia al fianco, diciamo, mostra al fianco a qualsiasi battuta possibile e immaginabile. Perché? Cosa titola Milano Today con sempre i suoi titoli abbastanza accattivanti, come dire? Perché nei parchi di Milano non sarà più tagliata l'erba? Capite che così, cioè, subito, no, ecco l'allergia, eccola, poi sto male, no, fermi tutti, non è così. Però, diciamo che il titolo non ha proprio, non aiuta a stare tranquilli. La decisione del comune in 54 parchi per favorire la biodiversità, anche qua, sottotitolo non completo. 54 parchi avranno delle zone in cui verrà lasciata l'erba alta, o meglio, in cui verrà fatto lo sfalcio ridotto. Che cosa vuol dire? Tagliare meno l'erba, cioè lasciare che il ciclo dell'erba sia più lunga. Sì, quello che succede sempre ad agosto, in poche parole. Quello che succede tutte le estati ad agosto, quando ci dimentichiamo, quando il comune si dimentica di tagliare l'erba in certe parti della città. Ecco, sì, come dite, sì, quello che succede in periferia è praticamente da sempre, sì, quella roba lì, no. Allora, ecco, capite che infatti fa un po' sorridere la notizia, perché sembra un po', ma ricordate quella volta che quel famoso produttore di computer che poi si è messo a produrre anche telefonini, ok, quelli che abbiamo in mano noi, ha detto che a un certo punto, va, allora, vi facciamo il telefono nuovo, bellissimo, vi cambiamo anche la porticina per caricarlo, va bene, però non vi diamo più il caricabatterie dentro la scatola, perché non è ecocompatibile, cioè dobbiamo, capito, dobbiamo ridurre le emissioni, dobbiamo farlo per l'ambiente, non per le nostre tasche. Ecco, sembra un po' che qui quella storia lì, no, cioè, risparliamo un po' di soldi a tagliare un po' d'erba, facciamo così, lasciamo quattro parking con l'erba un po' più lunga, sembra un po' così. In realtà, invece, andate a leggerlo su Milano Today, perché è interessante, c'è tutto uno studio dietro e un ragionamento sulla biodiversità, o meglio, sul fatto che se noi lasciamo crescere le erbe, in questo caso i prati, in alcuni parchi, ad esempio intorno al platano picchiatore, lì come il platano monumentale dei giardini pubblici di Montanelli, ok, ci sarà un'area in cui, solo intorno a quell'albero, quindi non tutto il parco sarà una boscaglia, solo intorno a quell'albero ci sarà l'erba un po' più alta, proprio per favorire il processo di crescita delle erbe, che porta quindi a tutta la fauna, biodiversità, e anche a creare un ecosistema che si riappropri dei parchi cittadini. Tagliando l'erba troppo spesso, o comunque prima che il ciclo digitale dell'erba arrivi a compimento, si rischia di bloccare appunto questa biodiversità, di bloccare questo ecosistema, che invece, grazie all'idea dello sfalcio ridotto, così verrà appunto reintrodotta e verrà gestita in maniera diversa rispetto a quello che è oggi. Far sorridere la notizia, perché davvero viene a dire con tutto quello che c'è da pensare. Però no, in realtà sono cose interessanti, cioè non è... è sempre facile fare ironia su queste cose, è sempre facile. Face to face, heart to heart, The Twins, le 7 e 21 minuti qui su Crystal Radio, e andiamo avanti con le notizie, anzi notizia che... Ragazzi, come siamo imbruttiti a Milano, mamma mia. E fatevi una risata. Allora no, la prossima notizia effettivamente è divisiva, nel senso che immagino che chi abita nella zona forse, insomma, non lo so, cioè non riesco a darvi un'idea. Allora, vi leggo il titolo. Repubblica Milano, in titola Suona il clacson se hai bisogno di una vacanza. L'affissione scattina dagli automobilisti milanesi e le polemiche sui social. Ebbene sì, cosa è successo? Un cartellone pubblicitario di WeRoad, ve lo dico anche, tanto se ne parla anche nell'articolo, perché insomma è in mezzo alle polemiche in questo momento, recitava così. Suona il clacson se hai bisogno di una vacanza. E sotto appunto il logo di WeRoad. E la gente ha cominciato a suonare. La gente ha cominciato a suonare il clacson. Il problema è che sono giorni che chiunque passa di lì strombazza come un matto e quindi la gente si è incazzata. Allora, io lo capisco. Allora, secondo me anche qua, come al solito, le cose vengono fatte... L'idea è geniale. L'idea è geniale dal punto di vista del marketing, ma anche dal punto di vista proprio dell'interazione con i cittadini. Secondo me è geniale. Forse quello che c'era da pensare era lo metti su un giorno, 24 ore, 48 al massimo, lo metti su un giorno, poi il giorno dopo lo fai coprire con un altro cartellone. E adesso il silenzio si parte. Non so, una cosa del genere. Una roba del genere mi verrebbe da dire, no? Perché effettivamente funziona, è divertente. Gli ideatori dicono non ci aspettavamo che i milanesi fossero così stressati. Abbiamo quindi modificato il testo della campagna, perché effettivamente l'hanno modificato. Adesso c'è scritto ancora suona claxon, con sopra una riga rossa che quasi non si vede, quindi vabbè. Però diciamo che è cancellato, invece di suona claxon c'è scritto prenota una vacanza con noi. Va bene. La gente si è scatenata, però. Sui social ovviamente chiunque ha minacciato. Ecco, se abitassi... La più bella è se abitassi lì vi denuncerei. Quella è bellissima, no? Cioè, perché non abito lì chi se ne frega. Quindi andate a quel paese. Però vi insulto comunque sui social, ma se abitassi lì vi denuncerei. Fantastico, va bene. No, immagino che quelli che abitano lì non siano proprio felicissimi. Corso 22 marzo. Corso 22 marzo, sul lato di un palazzo è stato affisso questo cartellone. tra parentesi in campagna che dicono quelle di We Road è stata fatta a last minute. Quindi diciamo, a un certo punto hanno trovato questa occasione e hanno detto ma dai, cosa facciamo? Ma facciamo suonare il claxon ai milanesi. Comunque, no. Io non so bene cosa dirvi. Nel senso che io vi leggo la notizia. Poi su Repubblica c'è l'intervista che forse fa peggio che bene. Non lo so, non capisco. Anche qui si arrampicano un po' sui vetri. Però posso dire per una volta che sinceramente sta qui e fa tutto sto casino per una fissione. Allora sì, c'è chi dice che porta che è pericolosa. C'è chi dice che porta... È vero. Cioè, non so come dire. Tutte le emozioni a sfavore hanno ragione. Di base, mi viene da dire però è una pubblicità, è divertente, la lasciavamo su... Ecco, lasciavate la su... Se la lasciavate lì un giorno. Cioè, basta. Nessuno diceva niente. Anzi, poteva essere anche abbastanza simpatica. Però forse effettivamente è una roba che gli esplose in mano che non si aspettavano. Cioè, hanno fatto... Batti le mani, tam tam, se sei felice, tu lo sai, batti i piedi. Il concetto è quello. Se sei stressato, tu lo sai, che puoi suonare il claxon, dai. una cosa così. Non lo so, però, dateci un'occhiata. La notizia è schitta bene. Ci sono anche, appunto, le interviste agli ideatori di tutto ciò. Che dire? Suonate il claxon se siete stressati. No, ascoltate Crystal Radio se siete stressati. Dai, eh? Va bene? Anzi, un buongiorno a tutti gli ascoltatori, al buon Fabio che ci tiene in compagnia tutte le mattine. Questo è il buongiorno di Alberto. Cominciamo un'altra faticosa giornata a Meneghina con la compagnia di Crystal Radio. Ebbene sì, andiamo avanti con la musica, Madonna, con Frozen. 7,25 minuti, Crystal Radio. Good morning, Milano. Non suonare il claxon. Ascolta Crystal Radio. Francesco De Grigori con Giusto o Sbagliato e Checco Zalone. Ecco, no, silenzio un attimo. Allora, io devo dire, a metodo di ignoranza non avevo ancora ascoltato la canzone. Mi aspettavo di sentire Zalone, ma non l'ho sentito. a meno che Zalone faccia l'imitazione di De Grigori e quindi non si sente per quel motivo. Io non ho capito. Qualcuno mi può spiegare la canzone che abbiamo appena ascoltato? Che forse è anche una bella canzone, non lo so, però non l'ho mica capita bene. boh, questo comunque era Francesco De Grigori con Checco Zalone appunto in Giusto o Sbagliato. Ma bene, ne prendiamo atto. Giusto o sbagliato che sia invece andiamo avanti noi perché arrivano i messaggi anche su Whatsapp al 331-7853-555. Buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini. Settimana di lavoro a Riccione per fuggire dal fuori salone. Ciao da Fabrizio di Opera. Ciao Fabrizio, grazie del tuo Whatsapp e mi sembra un'ottima idea quella di fuggire dal fuori salone andando in quel di Riccione. Sappiamo, insomma, secondo me anche deve essere un bel periodo dell'anno questo per andare in quei posti lì, perché d'estate io non ci andrei manco molto, vi dico la verità. Cioè, mamma, un casino ci sarà. D'inverno c'è sempre questa storia del mare d'inverno, la tristezza, così che poi secondo me non è neanche tanto vero. Però secondo me in questo periodo qua insomma, niente male. Anche perché, insomma, visto questo i preambolo di estate che abbiamo avuto chissà da quelle parti lì. Attenzione però a non abituarvi troppo a questo caldo, perché andiamo a leggere da Repubblica Milano meteo a Milano, illusione d'estate, ma da mercoledì temperatura in discesa e pioggia. La primavera arriva a fine aprile. Ebbene sì, perché domenica abbiamo avuto massime di 12 gradi sopra la media stagionale. Però, dice attenzione, perché sta per arrivare il brutto tempo, cioè stanno per scendere di nuovo le temperature. Quando succederà? Tra oggi e domani, più o meno, tra stanotte, diciamo, temperature che in 24 ore più o meno scenderanno di 10-12 gradi. Sì, quindi attenzione perché insomma, sì, ci sarà un bel frescolino in arrivo tra mercoledì e giovedì rimarranno abbastanza basse fino a per i prossimi giorni. Poi dovrebbe ritornare il bel tempo comunque poi verso fine mese. Attenzione appunto perché se adesso eravamo ben sopra la media le medie stagionali da invece mercoledì torniamo sotto le medie stagionali. Dicono gli esperti in questo caso su Repubblica.it c'è un'intervista in virgolettato di Andrea Giuliacci che dice torneremo più o meno a temperature di fine marzo. Quindi torniamo indietro diciamo di una quindicina di giorni più o meno quella roba lì. Tra di fatto quindi che coprite vi avete fatto bene chi non l'ha fatto a fare il cambio stagione non fatelo ancora aspettate. So che ho visto gente in giro già in canotta va bene però attenzione perché non siamo ancora non è ancora l'estate ce n'è ancora per un po' quindi possiamo tranquillamente ancora metterci i maglioncini da qualche giorno perfetto mi raccomando non esagerate che poi dopo vi vengono i malanni già c'è l'allergia ripeto che vi fa naspare vi fa gocciolare il naso gli occhi e tutto il resto ci manca solo che ci pigliamo anche l'influenza quindi state ben attenti da domani iniziano a scendere appunto le temperature abbastanza drasticamente nel senso che si arriverà a una minima intorno ai 6 gradi e una massima intorno ai 16 che non è bassa a 16 gradi ma in confronto ai 23 24 25 27 28 gradi di domenica insomma la differenza si fa sentire e soprattutto la differenza così veloce si può far risentire anche sul fisico quindi attenzione attenzione in Italia Fabio Fibra Emma e Baby Gang in Italia verso il 2024 e nel test insomma si fa riferimento a tante cose che in Italia vanno sì e vanno no tra queste ad esempio leggiamo da Repubblica Milano sia a livello nazionale ma adesso ne parliamo a livello lombardo in 10 anni persi mille medici di famiglia in Lombardia ok questa notizia da Repubblica ma al nuovo bando per 1435 posti rispondono solo in 197 e sappiamo oltretutto che quando succede questa cosa qui non è detto che quei 197 siano tutti donnei perché c'è anche questo da dire cioè non è detto che tutti quelli che rispondono al bando possano passare a diventare poi di ruolo nel caso della scuola in realtà nel caso della scuola i numeri sono completamente diversi qui c'è un problema grosso il problema di chi vuole fare la professione medica con il servizio sanitario nazionale ma soprattutto diventare medico di base ebbene sì perché preoccupa soprattutto l'età media dei dottori laureati da quasi 30 anni pensate l'età media e il numero di pazienti per ogni sanitario cioè circa 2000 pazienti a testa cioè tantissimi pensate che roba 10 anni persi appunto più di cioè persi mille medici di famiglia in Lombardia in 10 anni perché vanno in pensione perché finiscono la loro carriera giustamente hanno un'età che veramente è quella di Matubasalem e quindi ci sta e lo capisco qual è il problema l'abbiamo fatto tante volte l'abbiamo cercato di parlare tante volte il problema principale è l'attrattività di questa professione i ragazzi che studiano i ragazzi e le ragazze che studiano medicina non vogliono fare il medico di base per x motivi vari tra cui sicuramente 2000 pazienti a botta non è una cosa semplice da gestire il tempo che è sempre minore da dedicare appunto ai pazienti quindi è difficile anche fare il proprio lavoro le responsabilità che sono sempre più alte la parte informatizzata che attenzione non sono sapete che io sono un grande amante della tecnologia ma davvero ormai un medico passa più tempo sui portali a registrare cose piuttosto che a fare diagnosi e a vedere pazienti ma un altro tema importante è quello ad esempio dello stipendio che è basso ebbene sì mai avrei pensato di dire una cosa del genere ma pensate che e lo leggiamo da Corriere della Sera Milano perché il presidente dell'ordine dei medici di Milano Rossi dice carenza dei medici di famiglia la formazione passi all'università e si aumenti il compenso di tirocinanti con 800 euro al mese e nemmeno si mangia a Milano e hai ragione adesso va bene tutto però stai studiando da non so quanti anni dovrai studiare ancora devi fare per forza il tirocinio perché non è che puoi andare a toccare la gente medica se fare il medico senza il tirocinio è impossibile ok non si può pensare 800 euro al mese ma chi lo vuole fare è ovvio che appena si laureano o vanno a fare tirocini o vanno a fare tirocini da altre parti o vanno nel privato ovviamente che paga molto di più e insomma ecco e poi un'altra cosa scrive appunto Rossi dice dobbiamo destreggiarci tra 11 portali web diversi per completare le varie procedure anche questo non esiste una cosa del genere non può diventare un lavoro d'ufficio quello del medico cioè tu dirai vabbè ma prenditi una segretaria che fa le pratiche al posto tuo a 800 euro al mese a 1200 euro al mese 1500 euro al mese attenzione se un medico prendesse anche 2500 euro al mese un medico di base tenete presente che poi si deve pagare lo studio perché l'affitto dello studio si deve pagare da solo quindi non è che è capito ed è comunque un che lavora per lo Stato è questo che insomma non gira bene secondo me San Giovanni Malibu il Sangio grande Sangio speriamo di ritrovarti espresso e presto perché davvero sei un grande comunque allora andiamo avanti a leggere notizie leggiamo da Repubblica Milano premessa tutti diciamo che i giovani non hanno ideali che sono un branco di scappati di casa che non ha niente da fare che non vuole fare nulla che non gli interessa niente del proprio futuro che sono tutti depressi che non vogliono fare niente per migliorare la propria condizione poi quando fanno qualcosa li bastoniamo perché questa è la verità pugno duro dell'Iceo Classico Carducci contro gli studenti che hanno occupato 18 sospesi con obbligo di frequenza cornuti mazziati la protesta quindi perché ovviamente non ci stanno gli studenti dicono è un messaggio di repressione due anni fa quando abbiamo occupato ad esempio non ci è stato nessun provvedimento altri 19 studenti si sono autodenunciati giustamente mi viene da dire nel senso che giustamente cioè in solidarietà con i compagni e questo è successo in buca parola che appunto dopo l'occupazione avvenuta a Carducci durata tre giorni poi neanche durata due mesi o cose occupazione che ha fatto andare avanti comunque le lezioni per chi non voleva occupare tranne un paio di due ore da quanto ho capito all'inizio per gestire la cosa vabbè sta di fatto che sono arrivate e fioccano le sospensioni per gli studenti punto occupazione che si è svolta dal 3 al 6 d'aprile senza le interruzioni delle lezioni in più anche i ragazzi riconoscono che è stata una partecipazione neanche alta quella all'occupazione quindi non capiscono perché questo utilizzo oltretutto sospensioni gestite autonomamente dei consigli di classe quindi se ti andava bene che avevi dei professori un po' più magnanimi non ce l'hai se invece hai professori un po' più cattivelli ce l'hai quindi anche lì che non ha senso nel senso c'è debba essere l'istituto in sé a dover fare una cosa del genere sta di fatto che appunto ci sono 17 sospensioni altre 19 che potrebbero arrivare a questi studenti che hanno semplicemente fatto quello che noi gli diciamo che non fanno mai cioè di far sentire la propria voce di dire cosa ne pensano di far sì che il loro futuro sia migliore per una volta che l'hanno preso in mano e hanno deciso che si poteva fare qualcosa poi potete essere d'accordo o non d'accordo con l'occupazione questo è un altro discorso però non hanno fatto danni alla scuola tra parentesi c'è solo un discorso sull'allarme ma gli stessi studenti dicevano abbiamo un problema nel senso che continuava a scattare questo allarme e non riuscivamo a toglierlo poi c'era un problema per le palestre ma comunque i tecnici sono arrivati loro stessi ci hanno fatto in modo che tutto funzionasse perfettamente senza problemi niente tra di fatto che ha dato fastidio questa occupazione evidentemente e quindi hanno dovuto sospenderli perché non hanno seguito il regolamento scolastico l'articolo 32 del regolamento agli allievi stando al racconto si contesta la violazione dei doveri propri degli studenti doveri scolastici del rispetto delle persone e delle norme di sicurezza questo è quello che dice l'articolo 32 del regolamento scolastico sto leggendo appunto la Repubblica Milano questo è quello che noi facciamo agli studenti quando questi hanno deciso di dire vogliamo prendere in mano il nostro futuro davvero non mi piace per niente questa notizia nel senso sono molto molto dispiaciuto e molto solidale con gli studenti del Carducci che appunto in 17 avranno appunto questa sospensione con oltretutto obbligo di frequenza una di quelle situazioni che proprio la sospensione non ha senso secondo me con l'obbligo di frequenza non si capisce non ha proprio senso in questo caso proprio poi meno che mai sta di fatto che altri 19 studenti si sono invece autodenunciati perché hanno detto in solidarietà con i propri compagni dicendo vabbè che c'eravamo anche noi all'occupazione e quindi adesso vedremo che cosa succederà al Carducci vedremo anche cosa diranno gli organi preposti come si dice in questo caso della scuola scuola che appunto ha visto 17 sospesi alla Carducci per questa occupazione ed altri 19 che si sono autodenunciati va bene ci fermiamo un attimino noi ci fermiamo per una piccola pausa giornale radio poi Crystal History e poi torniamo qui in diretta fino alle 9 sono anche arrivati i nostri ospiti già li vedo al di là del vetro parliamo di un gioco questa mattina ma non solo gioco è un gioco che ci porta a Ibovisasca Spagna con Easy Lady era il Crystal History delle 8 il dinero di uomo qui in diretta su Crystal Radio Good Morning Milano sono le 8 e 09 di oggi martedì 16 aprile e ci hanno raggiunto qui con noi in studio i nostri ospiti di quest'oggi dell'associazione cittadini della Bovisasca Guido Giazzi ed Emilio Cavalleri buongiorno entrambi buongiorno buongiorno benvenuti allora Bovisasca andiamo lì vicino intorno alla ferrovia c'è poco da fare se si pensa alla Bovisasca si viene subito alla ferrovia almeno io ho questa idea cavalcavia sottopassaggi ponti esatto per chi non è pratico diciamo che il quartiere è a nord di Milano ed è facciamo come si faceva come si faceva una volta una volta si faceva così a scuola la Francia confina sud con l'Italia e la Spagna e nord la Bovisasca confina con la Bovisasca confina con la Bovisa Bovisa afori con la Comasina Comasina quartiere di Novate e Quarto Gero la particolarità del quartiere è che nella Y che si dirama tra le ferrovie nord partendo dalla Bovisa la Bovisa si divide in due rami diretti e noi siamo in mezzo a questa Y faccio notare solamente che le ferrovie nord sono nate nel 1880 e come nel Far West la linea era diretta non c'è nessuna curva la strada è tutta in piano quindi queste sono dirette infatti sono delle vie eccezionali perché raggiungono le varie città a nord in maniera rapida più rapida dritta giusto come Far West come vediamo nei film del Western infatti così Bovisasca appunto che è però un quartiere insomma bello vivo perché è subito un quartiere molto vissuto e popolare della nostra città no? Sì ha avuto uno sviluppo notevole dagli anni 60 fino a oggi noi abbiamo avuto la fortuna di viverlo perché praticamente viviamo lì dagli anni fine anni 50 e inizio anni 60 avete avuto la fortuna detto non è la sfortuna stare in Bovisasca ma è bello no no è una fortuna perché è sempre stato un quartiere come dicevi tu prima vivo ma anche pieno di risorse parecchio verde è rimasto ancora parecchio verde e nonostante siano cambiate molte cose dagli anni 60 ad oggi però è molto vivo anche dalle gente che è venuto ad abitarci però diciamolo e non è conosciutissimo questo quartiere vive un po' in ombra della Bovisa che gli dà un po' anche e poi soprattutto avete fatto avete diramato nasce prima la Bovisa o la Bovisasca come etimologia nasce prima l'uovo o la gallina la Bovisa è senz'altro più vecchio dimmi Guido la Bovisa nasce dal fatto che c'è questa via Bovisasca perché passavano le truppe romane e tenevano anche i buoi quindi possiamo dire che è vero che nasce prima il quartiere della Bovisa ma la parola Bovisasca nasce prima del quartiere della Bovisa ecco abbiamo diramato la questione faccio notare da un punto di vista storico che la Bovisa diventa fondamentale agli inizi del secolo scorso perché la parte dell'industria chimica che nasce lì diventa più importante di tutta l'Italia tutto quanto infatti è stato fatto che appunto è poco conosciuto avete fatto però qualcosa di molto interessante per far tornare diciamo a parlare di Bovisasca e di farlo conoscere prima di tutto in realtà la vostra idea era quella di farlo conoscere a chi vive lì giusto? esattamente allora prima di tutto il primo progetto è stato quel libro che hai sotto mano che si chiama Bovisasca on my mind Bovisasca on my mind dove abbiamo preso da Ray Charles il titolo infatti devo dire anche la copertina fa molto soul anni 50 ci sono dentro c'è la foto di una chiesa dentro di legno che potrebbe benissimo essere sotto non so c'è scritto Chattanooga Tennessee cioè una cosa del genere tranquillamente invece è la chiesa del sacro cuore detta la baracca ovviamente del villaggio Bovisasca non è Chattanooga Tennessee su quella chiesa che ormai non c'è più ma era un simbolo per noi era un simbolo perché era il punto d'incontro dove tutti questi bambini si trovavano lì la chiesa era aperta era in legno si entrava con le biciclette in chiesa e non c'era non c'era niente era proprio piacevole quindi il primo è stato quello avrei tempo a vederla la baracca l'avete vista l'abbiamo vissuta l'abbiamo vissuta l'abbiamo vissuta l'abbiamo vissuta io personalmente lui avevo un anno e più di me io avevo dieci anni e mi ricordo che era sviluppata ad L la parte diciamo lunga era il cinematografico cinematografico la prima rigione la domenica si faceva il cinema dove noi si vedevano in maniera partecipata altro che cinema 4D o qualcosa di qui proprio era super interattivo oramai allora prima l'idea del libro dove abbiamo chiesto alle persone che abitavano in quartiere se avevano delle foto particolari e abbiamo trovato di tutto immagino e abbiamo trovato di tutto ma stiamo ancora cercando perché ci sono delle cose ma che belle queste foto interessanti dove si trova questo libro se qualcuno lo volesse lo può richiederlo a noi ok quindi associazione cittadini di Buomisasca c'è anche su facebook abbiamo un sito quindi siamo organizzati da questo punto perfetto e altro punto importante questo ha creato un incontro perché non si era mai parlato della storia del nostro quartiere e la cosa che ha colpito sono state le persone che non abitano più in zona che hanno cercato attraverso il libro i ricordi e hanno scritto e hanno parlato eccetera quindi la volontà di cercare altre foto c'è ancora fatto questo cioè abbiamo creato questo gruppo faccio notare che l'associazione cittadini Buomisasca nasce nel 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 2000 ok proprio per risolvere certi problemi pratici eccetera ultimamente abbiamo cercato anche di fare altro allargando il nostro raggio di azione non solamente più i problemi tecnici particolari del quartiere le strade la viabilità i parchi ma anche cercare di capire se ci sono degli artisti in zona e ce ne sono parecchi come in tutti i vari quartieri ci sono delle personalità notevoli e poi un altro incontro importante l'abbiamo fatto con le scuole con le scuole cioè voi siete andati a chiedere a conoscere i giovani abitanti di questa zona e vi siete accorti che non ne sapevano niente cioè poveretti c'è stato molto ricambio negli anni molta gente è arrivata dopo ancora adesso arrivano famiglie nuove anche di estrazioni diverse anche di nazionalità diversa e quindi noi ci sentiamo un po' non in dovere però insomma è giusto anche lasciare qualcosa a quelli che vengono i testimoni e quindi stiamo facendo proprio un lavoro tutti gli anni con le terze delle quinte elementari ecco proprio su questo e da questo incontro che adesso poi ci racconti meglio nasce pensate un gioco ebbene sì è nato poi un gioco un gioco da tavolo un vero e proprio gioco da tavolo Bovisa Scopoli ok che si gioca con i dadi con le cose ci sono delle domande da rispondere e che è secondo me molti di voi che sono in ascolto cadrebbero già alla prima domanda ve lo dico perché non è per niente facile divertente ma per niente facile ne parliamo fra pochissimo di nuovo qui in diretta con l'associazione cittadini Bovisasca Bovisa Scopoli e cercatelo perché è divertentissimo Michael Jackson Black or White vi ricordo sempre quando ogni volta che presentiamo Michael più Michael per tutti c'è sempre bisogno di tanto Michael Jackson la mattina soprattutto alle 8 e 20 minuti qui su Crystal Radio Good Morning Milano ancora qui con l'associazione cittadini Bovisasca a parlare di Bovisa Scopoli ebbene sì dopo che avete fatto appunto prima il libro Bovisasca on my mind poi siete andati nelle scuole a parlare con i ragazzi avete partorito un gioco adesso dovete raccontarmela questa cosa qua praticamente è venuto fuori da un disegno fatto su una carta normale si pensava a un gioco simile a quello dell'oca o di un giro del mondo con la caratteristica di mettere in questo gioco tutte le componenti diciamo così del nostro quartiere tutte le zone caratteristiche del nostro quartiere storiche la scuola la chiesa il parco piccoli particolari anche che che fanno del nostro quartiere magari non un quartiere storico come altri quartiere a Milano però che ha la sua caratteristica la sua voglia comunque di esserci di contare anche qualcosa insomma ecco e quindi è un gioco un gioco che però si fa proprio attraverso il quartiere cioè un percorso adesso poi voi avete fatto una plancia con tutti ma volendo si potrebbe tranquillamente giocare su una mappa volendo e lo scopriamo man mano tra parentesi non l'avete fatto da soli l'avete fatto poi con le realtà che esistono nel vostro quartiere sì appunto come dicevo prima abbiamo abbiamo creato un percorso attraverso il quartiere passando dalla chiesa dalla cascina dalla chiesa di Samamete che è diciamo l'edificio più vecchio del nostro più antico edificio storico della Buisaskar nel 1100 ah beh giù di lì sì dunque l'idea era proprio quella cioè il nostro pubblico erano questi ragazzi giovani che non conoscevano il quartiere quindi l'idea l'esca era quella di fare delle domande semplici se possibile spiritose però insegnare qualcosa che rimanga quindi c'erano alcune idee alcune parti erano geografiche sulle vie oppure i nomi delle vie a chi erano dedicate oppure delle parole che ci siamo accolti andando a scuola i ragazzi non conoscevano per me raccontami quella del parco quella del parco ad esempio il parco come si chiama il parco si chiama Walter Chiari ok e giustamente tu hai detto il parco Walter Chiari è il dato per scontato che tu ti sapessero chi fosse Walter Chiari sì a meno avessi visto un film i ragazzi hanno detto ah me lo ricordo quando giocava nell'Inter cioè hanno detto qualcosa del genere no più o meno proprio ci siamo accorti che c'era questo gap non sapevano chi era Walter Chiari ma non solo con con Walter Chiari anche la parola parroco sì che noi avevamo per scontati abbiamo visto che le maestre hanno fermato e hanno detto ma chissà chi è il parroco e molti hanno detto ah cioè non io pensavo mi stessi chiedendo le etimologi della parola parroco non la so neanch'io devo dire la verità avevamo usato chi è il show parroco esatto che cosa fa il parroco allora da questo abbiamo cercato altro fa il paracaduto qualcosa del paracaduto avremmo pensato una di queste domande sui negozi storici c'era la la cosiddetta la cosiddetta la cosiddetta posteria posteria sì e noi abbiamo fatto al solito tre risposte a questa domanda cos'è la posteria allora vi ho detto è un'espressione posteria potrebbe essere un negozio di igiene alimentari che vende di tutto oppure un antico ufficio della posta ecco ha vinto l'ufficio postale immagino chiaramente ma non è quello sappiamo che deve essere quello però anche questo era importante per capire su che luogo chiaro e prima mi hai fatto una domanda facciamola che adesso la so posso rispondere bene quanto è lunga ad esempio la via Bovisasca e ci sono tre opzioni leggiamo le tre opzioni sono 3.5 km ok 5,6 km oppure 8,5 km 8,5 km l'avevo escluso perché è troppo lunga forse neanche via Le Padova è così lunga però via escluso invece questa è lunga 5,6 km però 5,6 km perché la via Bovisasca parte da Novate e arriva fino alla Bovisa alla Bovisa infatti insomma questa l'avrei sbagliata anzi l'ho sbagliata perché voglio andare adesso la so adesso me le impargo tutte così se gioco con gli amici vinco a mani basse a Bovisa Scopoli c'è anche da dire questo nella nostra idea è che le persone che giocano se invengano in mente altre domande abbiamo in mente di fare una edizione ancora come succede per i giochi più seri che ogni anno ogni due anni beh possiamo fare anche Bovisa Scopoli versus Afro come quelli della Bovisasca invadono Afro per lì cominciano le lotte intestine perché insomma questo qui diciamo appunto è il gioco dell'oca no? per questo punto da risico e potete fare dove conquistiamo il nord di Milano per Bovisa Scopoli Imperium una cosa del genere la cosa appunto divertente però appunto è che man mano che sei davanti nel gioco io scopro dove vivo praticamente esattamente quello scopro dove vivo e apprezzo quello di vivere esattamente e poi ripeto perché noi abbiamo trovato che questi ragazzi c'è il moderno e l'antico perché c'è l'Uni Center ad esempio ho visto ma c'è appunto l'antica chiesa ci sono le scuole le scuole i passaggi a livelli che non ci sono più sapevano cosa è il passaggio a livello i ragazzini però lo sapevano per fortuna sì però è così qualcuno fosse giocare ancora con i trenini magari non lo so questo anche per fargli vivere oltre all'antico anche il moderno perché loro tutti i giorni comunque vivono il tragitto per andare a scuola per andare nel negozio e quindi anche questo era importante per fargli capire l'importanza che dobbiamo stare insieme la comunità per queste cose ecco volevo aggiungere una cosa che per me è importante perché parlando con questi ragazzi andando in giro con loro abbiamo chiesto quali sono le cose che amano e quelle che piacciono di meno quelle che amano è il verde perché ce n'è tanto quello che non amano è che il verde spesso è sporco perché la gente è molto ragazza allora noi adesso faremo delle azioni abbiamo già fatto lo scorso anno lo ripeteremo adesso a maggio puliamo il parco insieme a noi anche se pulire il parco non è così semplice immagino non è così semplice perché le maestre non vogliono responsabilità se qualcuno si fa male oppure io vi faccio già i complimenti solo perché avete voglia di lavorare con le scuole che è una delle cose che io non farei mai in vita mia perché sto anche con le scuole è difficilissimo è difficilissimo quindi complimenti davvero per quello che fate però tu sei abituato a questo mondo dorato eh sì 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 io non riesco nel mio studio basta chiuso qui dentro ascolto io posso viaggiare con la musica quindi anzi anzi rimanete qui con noi adesso andiamo ancora un po' di musica ma poi torniamo qui perché io voglio sapere di più invece proprio sull'associazione Cittadini Bovisasca voglio sapere appunto a maggio quando farete questa operazione di polizia del verde ma poi anche tutte le varie iniziative che fate dal 2000 dicevi appunto ad oggi insomma tantissime iniziative la cosa bella perché dicevate che tanti di voi eravate amici da bambini eravate siete ritrovati adesso nel mezzo dei cammini della vostra vita e avete deciso di darvi una mano insieme per il vostro quartiere insomma se non sono queste le belle storie di Milano quali devono essere andiamo avanti con la musica una piccola pausa poi torniamo sempre qui con voi in diretta qui su Cristal Radio Good Morning Milano Antonello Venditti ci vorrebbe un amico in versione credo strumentale orchestrale non ho mai capito bene grazie all'ufficio programmazione sempre per queste chicche grazie mille come si chi fa contro l'alt cancio ah no scusate no va bene i risultati che sentite sono quelli dei nostri ospiti di Guido D'Emilio dell'associazione cittadini della Bovisasca che appunto ci hanno portato qui oggi vabbè il loro gioco Bovisascopoli che potete trovare se appunto vi contattano ma in realtà credo che anche in giro per la città si trovi giusto si ci sono alcuni posti alcune librerie ce n'è una in Cadorna vi do questa sono sicuro perché l'ho vista in vetrina quindi è una libreria specializzata su Milano non me ne voglia la signora gentilissima che la gestisce non mi ricordo il nome però veramente fateci un giro e c'è anche Bovisascopoli ma non è solo questo che fate non fate solo i giocatori di giochi da tavolo anzi i creatori di giochi da tavolo ma appunto fate tante attività anche sul territorio a maggio dicevi Guido ce n'è una no? Sì noi abbiamo un collaboratore un amico diciamo che è pompiere e avevamo sviluppato questo tipo di evento che faremo il 5 di maggio che è a Pompieropoli cioè abbiamo invitato i pompieri a fare questo questo evento è un evento mirato sui bambini soprattutto dove faranno delle dimostrazioni è una manifestazione che dura tutto il giorno e niente stiamo organizzando questa cosa qui che mi sembra abbastanza importante ma non è l'unica che abbiamo fatto l'anno scorso abbiamo fatto aggiungi solo una cosa che li fanno giocare con l'acqua e al termine ricevono un diploma dei vigili del fuoco quindi i bambini torneranno a casa e niente questo è uno dei tanti eventi che abbiamo fatto cioè l'anno scorso è già due anni diciamo da quando praticamente abbiamo ripreso la cosa oltre a Bovisascopoli il libro anche parecchi eventi di pittura di mostri fotografiche abbiamo fatto persino un evento sui ferromodellisti cioè sui trenini diciamo dove ero io? lo sono perso io sono un grande appassionato di tram e trenini anche questa è una cosa che è stata una scoperta anche per noi perché questa associazione è presente in quartiere da vent'anni e noi non sapevamo nulla o quasi perché sono nelle cantine di questa scuola hanno il loro centro le loro aree quindi quando noi abbiamo scoperto le abbiamo invitati erano stati ben contenti di portare questi plastici che sono meravigliosi e soprattutto sono fatti conoscere anche dal quartiere perché poi molti bambini si sono iscritti alla loro associazione dove fanno diorami fanno andare trenini e quant'altro insomma e questa è una delle tante cose che abbiamo fatto oltre a aver promosso anche dei giri intorno al quartiere per far vedere le parti principali del quartiere e adesso il prossimo incontro sarà a metà maggio il 18 maggio ci sarà la pulizia del parco dove chiaramente noi dell'associazione saremo presenti e ci auguriamo che molte persone possano e si ma non è che potete far far tutto a loro cioè dovete darmi una taglia una mano l'idea è proprio questa il concetto base era questo che se tu sei in un posto pulito e te ne accorgi che è pulito fai di tutto per tenerlo pulito quindi noi dobbiamo partire dai bambini in questo caso qua per cercare di educare i grandi che purtroppo a volte prendersi cura è fondamentale nel senso se tu ti prendi cura di un posto e fai anche fatica a prendertene cura poi magari stai un po' più attento a non prendertene cura o se vedi qualcuno che non ne prende cura magari dici senti ma perché non prendiamo cura insieme che è meglio altro progetto importante per il mese di settembre a inizio di settembre abbiamo pensato di organizzare un concerto d'archi in una in una cascina cascina che è del 1500 quindi abbiamo chiesto il permesso alle persone che abitano lì se era possibile e andremo a vedere il posto quindi studieremo il posto e fare un concerto d'archi in quell'ambiente per me è particolare in seguito a fine settembre ci sarà la festa del quartiere dedicata al quartiere con eventi con musicisti con spettacoli teatrali e per la prima volta vorremmo coinvolgere dei ragazzi che fanno rap musica a me è molto distante però capisco che è importante che esista e però sono contento se vengono ce ne sono già tre o quattro che hanno dato un'adesione quindi sono dei ragazzi del quartiere che si esibiscono per il quartiere bellissimo beh insomma bello bello tantissime appunto le iniziative che fate tutte queste iniziative le possiamo trovare sul vostro sito internet e sul vostro facebook dateci le coordinate per trovare tutto quanto è semplice perché è www.associazione cittadini della bovisasca punto org quindi ci sono tutte le informazioni su facebook è la stessa cosa quindi tante iniziative che fate sarete anche un bel gruppo nutrito di volontari immagino noi siamo circa 15 perché noi ci troviamo settimanalmente al martedì oggi spesso adesso le 10 e mezza dove c'è un programma di lavoro e ognuno quindi non devo far arrivare in ritardo alla riunione questa mattina è tutto calcolato tra i miei punti che mi hanno segnato c'era quello che voi dovreste venire da noi a vedere il quartiere noi ci torneremo ma volentieri adesso noi appena le nostre esterne di solito intorno al mese di giugno o luglio noi cominciamo a fare le nostre esterne quindi insomma sicuramente avremo modo di anche perché appunto abbiamo già fatto un bel giro nella Milano degli antichi comuni Bovisasca non era un antico comune e quindi non è entrato in questo giro ma insomma lo facciamo entrare volentieri come quei famosi cento e passa toponimi che insomma riempiono la Milano di quartieri che magari a volte uno non conosce che invece appunto sono fondamentali benissimo quindi sicuramente con Good Morning Milano e con Milano News verremo in Bovisasca grazie davvero per essere qui con noi questa mattina grazie mille di tutto quello che ci avete raccontato ricordiamo appunto Bovisascopoli il gioco che potete trovare dall'associazione Cittadini Bovisasca e tutte le altre iniziative che trovate appunto sul sito e sulla pagina Facebook potete partecipare anzi partecipate numerosi come si dice in questi casi giusto no? esatto grazie grazie a voi grazie mille e appunto portate loro in saluto a tutti gli altri dell'associazione che insomma so essere in ascolto e so che insomma ci tenevano tanto a far raccontare da voi poter raccontare quello che fate tutti i giorni per il vostro quartiere e mi viene a dire anche per tutta la città di Milano perché non è solo per il vostro quartiere grazie mille davvero a Guido e grazie mille ad Emilio dell'associazione Cittadini Bovisasca grazie mille andiamo con la musica adesso è il momento di Beyoncé con Texas Hold'em Beyoncé con Texas Hold'em la svolta country di Beyoncé rimaniamo sempre a Milano in zona nord lì vicino alla Bovisasca c'è anche Dergano perché lo leggiamo da Repubblica Milano a Dergano la prima panchina lilla di Milano un simbolo per ricordare a chi soffre di disturbi alimentari che può chiedere aiuto ebbene sì l'iniziativa è stata voluta dall'associazione Fra Me e Te e dal municipio 9 pensate che fra i giovani i DCA e disturbi del comportamento alimentare sono la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali e quindi arriva la panchina lilla appunto ad Ergano in via Ciaia 10 per l'iniziativa appunto dall'associazione Fra Me e Te sullo schienale c'è una piccola taga con la frase alimenta la vita accompagnata da un fiocchetto lilla e dal nome appunto Francesca Lafra in memoria della quale è nata appunto l'associazione Fra Me e Te insomma è un'iniziativa importante la panchina lilla quindi da orinavanti se vedrete nascere delle panchine lilla in giro per la città sono appunto le panchine che ricordano i disturbi del comportamento alimentare e che per chi soffre di questi disturbi bene non si è da soli non si è soli si può chiedere aiuto sono tante le associazioni che ci sono in città e non solo ci sono tanti luoghi che si possono andare a conoscere dove poter essere aiutati ce n'è un po' per tutti davvero per chiunque e per tutte anche le tasche so che questo è un problema spesso in teoria perché si parla di salute mentale la salute mentale costa i psicologi costano beh non necessariamente sempre c'è da spendere soldi fidatevi andate a cercare e cercate le realtà che più possono interessare a voi ad esempio sul tema dei disturbi alimentari esiste anche ad esempio Over Eaters Anonymous un'associazione appunto OA si chiama Mangiatori Compulsivi Anonimi che aiuta ad esempio anche le persone appunto affette da DCA disturbi del comportamento alimentare andiamo avanti con un po' di musica poi torniamo qui a salutarci sempre in diretta qua su Crystal Radio Good Morning Milano alle 8 e 50 minuti di oggi martedì 16 aprile 8 e 55 minuti di oggi martedì 16 aprile volge al termine la puntata quotidiana di Good Morning Milano e bene si siamo arrivati alla fine della nostra mattinata insieme tutta la mattina con grandi ospiti informazioni curiosità di tutto e di più qui a Good Morning Milano come tutte le mattine è arrivato dalle 7 alle 9 su Crystal Radio dopo di noi Ambroggio Curti con Senti Questa ogni giorno ci racconta qualcosa che ha a che fare con la musica ci racconta le storie e ci fa ascoltare la musica perché non ne parla e basta ci educa sulla musica caro Ambroggio altro che se poi oggi avete voglia di giocare potete giocare a Bovisa Scopoli ve ne abbiamo dato questa mattina andate a risentire a ritrovare tutto quanto sul nostro sito goodmorning.milano.it tutte le informazioni sono lì mi raccomando fatevi una bella giocata a Bovisa Scopoli appuntamento a domani dalle 7 alle 9 sempre qui in diretta su Crystal Radio Milano 96.2 FM da Blas sito tutto quello che volete e anche su goodmorning.milano.it ebbene sì goodmorning.milano a domani ciao a tutti ciao 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 a tutti ciao a tutti